Ciao e benvenuti in questo nuovo video decorazione bullet journal. Finalmente siamo arrivati a dicembre, il mio mese preferito perché adoro le festività natalizie, adoro questo periodo e quindi sono contentissima di fare le decorazioni a tema natale sul mio bullet, non vedevo l'ora. Quindi mi sono un po' sbizzarrita, ho fatto diverse pagine, prima ho scritto la frase che avete visto e qui invece sto facendo la lista delle cose da fare assolutamente a dicembre e quindi nel periodo festivo. Quindi mi sono insegnata un po' di cose come fare gli addobbi della casa, guardare i film di natale, ascoltare le musiche, fare il presepe, insomma tante cosine che poi man mano le farò andrò spuntandole. Questo disegno l'ho fatto a parte e l'ho colorato tutto e l'ho fatto in questo modo perché mi sono accorta che quando coloro le cose sul bullet purtroppo le pagine non sono molto spesse e quindi purtroppo si vede un po' dall'altro lato. Quindi per questo a volte preferisco fare disegni a parte e poi semplicemente incollarli su. Questa è la vista mensile e mi piace tantissimo. Qui ho deciso di colorarlo ma a mio rischio e pericolo, però per fortuna non si vede granché girando la pagina. Un pochino sì, infatti si può notare. Qui mi segno l'habit tracker, quindi le varie cose che devo appunto segnarmi come Instagram, quando faccio i video, quando faccio workout eccetera eccetera eccetera. Lo faccio ogni mese, poi vado a colorare i numerini quando svolgo determinate azioni. E qui ho deciso di decorare con dei washi tape. Per questo mese ho deciso di utilizzare molti washi e sticker, perché quelli a tema natalizio li adoro tantissimo. E qui ovviamente come ogni mese vado a segnarmi i film che guarderò, il drama, la musica, i libri che leggo, queste cose. E anche qui ho deciso di utilizzare dei washi tape. Questi qui li ho presi l'anno scorso a Lidl, ma se vi piacciono tranquilli perché sicuramente li metteranno anche quest'anno. Questo disegno, questo cartoncino che vedete qui, è del calendario dell'avvento dell'anno scorso di Douglas. Io l'ho ritagliato e me lo sono conservata, perché quando io vedo delle cose carine le ritaglio e me le conservo. Qui invece mi sono scritta la lista dei film di Natale che devo assolutamente vedere. E poi nel mese di dicembre, insomma, mi segnerò gli altri perché cominceranno a fare tantissimi, tantissimi film e io li adoro. Questa invece è la prima settimana di dicembre che ho deciso di fare così, in questo modo, che mi ricordano un po' le candy cane. E anche qui ho deciso di utilizzare un bel washi, sempre preso al Lidl. E questa quindi è la decorazione iniziale che ho fatto per il mese di dicembre, poi vedremo man mano le altre settimane come le decorerò. Fatemi sapere se vi piace, io sinceramente la adoro. Quindi se avete apprezzato il video lasciatemi un like di sostegno. Se non siete iscritti al canale vi ricordo di farlo così non vi perderete i prossimi video. Io vi mando un bacio e ci vediamo prestissimo. Ciao!